Il 21 maggio a Disney Junior... Ciao a tutti, amici! Incontriamo Dottoressa Pelusso e i suoi amici del cuore. Draghetto! Un draghetto di pelusso coraggioso... Ciao! E pasticcione! Chi mi aiuta? Una dolce pecorella desiderosa di coccole... Sono bianchina. Nessuno potrà mai prendere il suo posto. Ne vino! Un tenero pupazzo di neve. Sei dove si sciogliermi del tutto? Timidoni. Voglio che tu sappia che ti voglio bene. Ma un po' sciocchino. Non puoi scioglierti, sei un pupazzo di pelusso. Oh, è vero! Insieme sono una vera squadra emergenza bua. Ottimo lavoro. Non ci sarei riuscita senza di voi. Perché l'amicizia è la migliore medicina. Io mi sento molto meglio. Grazie, dottoressa, è tutto merito tuo. Aiuta i giocattoli con bianchina, draghetto, ne vino e Totti. Nella nuova serie Dottoressa Pelusso. Il 21 maggio alle 7.45 di sera a Disney Junior. Dottoressa Pelusso. Dottoressa Pelusso. Dottoressa Pelusso. Grazie a tutti.